Ben trovati da Tg della Mobilità. Domani dalle 16.30 alla Ventino, celebrazione delle ceneri nella Basilica di Sant'Anselmo. Sul versante della Mobilità, già da primo pomeriggio scatteranno i divieti di sosta nella zona e prevista la chiusura al traffico di Via di Santa Sabina e di Via di Sant'Alessio. Domenica dalle prime ore del mattino fino alle 15.30 in programma la mezza maratona Roma-Ossia, la partenza è prevista all'Euro, altezza palalottomatica all'arrivo alla rotonda. Chiusure al traffico e deviazioni o limitazioni per i bus di 27 linee.